Prince Charles ha evitato di discutere del lavoro del principe William e del principe Harry, perché non voleva parlarne, ha affermato il corrispondente reale Rhiannon Mills in un nuovo documentario.Il principe di Galles, 73 anni, ha difeso la diversità e l'inclusione questa settimana, una causa che ha detto è vicina al suo cuore. L'erede legittimo ha fatto i commenti durante una visita a Olomerton College dell'Università di Cambridge martedì. Ha anche aperto ufficialmente il nuovo laboratorio di scienze da uno miliardo di sterline del gigante farmaceutico AstraZeneca in città. Durante la sua visita a Olomerton College, Charles è stato accolto dal preside, Lord Wolley di Woodford, che è il primo uomo di colore a guidare un college di Oxbridge.Il principe ha dichiarato, non potrei essere più felice di apprendere dell'eccellente lavoro svolto per promuovere una maggiore inclusione e diversità. Come Lord Wolley sa, questo è un argomento che mi è sempre stato caro e che ho cercato di portare avanti e di sostenere il più possibile per gran parte della mia vita. Mentre Charles ha promosso le proprie cause, il figlio maggiore della regina è stato accusato di avere luttato il lavoro dei suoi figli, William e Harry, in passato. Il corrispondente reale di Sky News, Rhiannon Mills, ha affermato nel nuovo documentario. The Princess and the Press Nella prima puntata della trasmissione in due parti, trasmessa lunedì su BBC 2, la Mills ha messo a nudo la natura competitiva dei rapporti tra le diverse famiglie reali. Ha detto, quando ho intervistato il principe Carlo e ho provato a chiedergli se i suoi figli potessero essere coinvolti nella difesa di cause intorno ai giovani. I, il principe Carlo lo ha evitato. Non ne voleva parlare. The Princess and the Press è presentato da Amol Ryan, editore dei media della BBC e conduttore del programma Today su Radio 4. L'ex direttore del quotidiano The Independent parla con una serie di giornalisti e commentatori per il programma mentre analizza le relazioni tra i membri della famiglia reale e i media.